Siamo con il dottor Claudio Busca, General Manager, Leisure, Blue Vacanze. Benvenuto a Media Hotel Radio. Grazie, buongiorno. Che cosa presentate qui in fiera? Allora, siamo venuti in questa fiera importante per noi, per il Sud Italia, in quanto il nostro gruppo ha vissuto nell'ultimo periodo un assessment importante, dunque tutta una nuova struttura di General Manager, in primis tutta la struttura che io ho portato, con una vision per la quale vogliamo espandere il nostro business proprio nel centro-sud Italia e andare a incrementare i nostri punti vendita. Noi siamo in questo momento il gruppo con il più alto numero di agenzie di proprietà, abbiamo più di 300 agenzie di proprietà e serviamo oltre 600 agenzie del territorio nazionale nella nostra area networking con il marchio BlueNet. Vogliamo espandereci in maniera importante nel centro-sud Italia e per questo che una presenza in questa fiera era così importante per noi, anche perché poi la nostra proprietà, noi siamo 100% di proprietà del gruppo MSC, dunque essere a Napoli dove MSC è di casa, non era assolutamente una cosa non fattibile. E le vostre destinazioni? Allora, noi ovviamente come agenzie di viaggio copriamo un pochettino tutte le destinazioni del mondo perché i nostri partner sono i migliori tour operator nazionali, però nel nostro gruppo abbiamo un network di proprietà, un tour operator di proprietà scusa, con il marchio Going e in questo momento stiamo sviluppando varie attività, soprattutto in quella che è l'area caraibica, abbiamo il nostro villaggio importante in Sardegna, il villaggio Perdepera, che è una chicca per quanto riguarda la Sardegna, soprattutto per quanto riguarda il livello di qualità e stiamo riuscendo con un nuovo catalogo blu, collezione mare, nel quale andremo a proporre un pochettino le migliori strutture selezionate da noi sul territorio italiano. Quindi per l'incoming molto mare? Per l'incoming molto molto mare, molto mare e soprattutto parliamo di Puglia, parliamo di Sardegna, parliamo di Sicilia e parliamo di Calabria. E qui siamo in casa, nel centro-sud insomma? Assolutamente sì, destinazioni importantissime, soprattutto la Calabria e la Puglia per questa area geografica e crediamo di poter offrire a tutte le agenzie che vorranno con noi, avvicinarsi a noi, e soprattutto ai clienti che vorranno andare nelle nostre agenzie un prodotto di qualità selezionato e che abbia un giusto rapporto qualità-prezzo. Grazie al dottor Claudio Busca, General Manager Leisure, Blue Vacanze. Grazie a voi, buona giornata.